Lorenzo Paol Letti, giusto numero 12 della staccata basket, da quanti anni è che giochi con la staccata basket? Quest'anno tre, quest'anno fai tre anni, sei quasi titolare ma io ho visto che noi sappiamo che in maggior parte sei il capitale della squadra, giusto? Sì Allora parliamo della partita di oggi, ma voi già siete partiti con l'intenzione di perdere o di vincere questa partita contro il rossego? Sì Mi pare che Moretti non l'abbia fatta tatticamente, è lì che dovevate prendere il vantaggio e quindi avete perso una partita che potrebbe essere stata fatale per voi andare nei primi posti, comunque adesso vi acconderete del terzo posto, domani giocate come provo e quindi com'è il pronostico? Vinciamo, siete sicuri di vincere? Allora forza, forza sagrata, grazie a Paoletti numero 15 Lorenzo e alla staccata basket